Quei pagativi in corso per il Carnevale Aghettino dell'Orciolaia, il 9 febbraio la prima uscita, anche quest'anno si è temuto di non farlo ma ci sarà? Sì ci sarà, ci sarà però, logicamente è una nuova location perché il campo scuola non è utilizzabile in quanto è già un cantiere per costruire la famigerata, l'Orciolaia di Via Fiorentina e quindi di conseguenza dobbiamo traslocare anche quest'anno, quest'anno siamo alle caselle e se continua così i prossimi anni la faremo dentro questo piazzale. Quindi al chiuso? No, no al chiuso, nel piazzale del piazzale del piazzale delle caselle. E quindi il piazzale del piazzale del piazzale delle caselle e quindi il 9, il 16 e il 23 febbraio come tutti gli anni per la 55esima volta il Carnevale uscirà. E questo comporterà delle limitazioni diciamo nei carri o sarà come sempre? Ma i carri lo stanno costruendo, ce ne sono un paio che vengono costruiti, ancora sono un allestimento, nel cantiere si sta lavorando soltanto che manca l'entusiasmo perché non c'è più la risposta della pubblica amministrazione, non del pubblico, il pubblico c'è perché i bambini c'è ma la pubblica amministrazione ha altri interessi, pensa ad altre cose e quindi di conseguenza questa manifestazione, poi i bambini votano. Quindi i bambini non votano, se votavano forse magari sarebbero tenuti più nelle giuste attenzioni dai nostri politici, però purtroppo non votano e quindi di conseguenza non vengono tenute nella considerazione questa festa che è per loro soprattutto. Immagino ci sia l'entusiasmo anche perché ogni anno vi dovete inventare il Carnevale in un posto nuovo, bisognerebbe magari trovare un posto che sia soddisfacente e definitivo. Perché poi capisci, il cambiamento comporta anche investimenti, strutture nuove, cambiamenti e così via perché non si può sicuramente ogni anno investire nelle strutture, ovviamente sarebbe bello investire nei carri e nella manifestazione per far sì che questa fosse sempre più bella, ma purtroppo anche quest'anno dobbiamo investire in 250 metri di reti di recinzione per poter far sì che la manifestazione si divulga. Poi non so, ci sono ulteriori norme anche di sicurezza, quindi vediamo un po' tutto quello che dovremmo fare. Appuntamento allora il 9 febbraio. Un tanto polemica, il 9 febbraio, grazie.